Grazie Presidente, chiaramente mi sento chiamata in causa non solo come consigliere di questa Assemblea Capitolina ma anche perché faccio parte del Municipio Nono e so perfettamente che i consiglieri, il Presidente del Municipio Nono si sono molto spesi per questo impianto che è sorto, che sta sorgendo a Ballerano. È chiaro che a noi interessa la salute pubblica ma soprattutto vogliamo esprimere la nostra contrarietà e lo stiamo facendo in tutte le sedi quindi partendo dal Municipio che chiaramente ha fatto un grande lavoro su questo esprimendosi più volte in Consiglio anche qui come abbiamo visto insieme a Fratelli d'Italia ma anche in Regione il Movimento 5 Stelle sta portando avanti atti appunto che vanno nel senso di confermare la nostra contrarietà a questo impianto. Chiaramente voteremo a favore essendo anche un atto del Movimento 5 Stelle, sottoscritto dal Movimento 5 Stelle speriamo che tutta l'Aula si esprima a favore di questa mozione. Grazie.